Allora iniziamo, buongiorno a tutte e a tutti, anche a chi ci segue via streaming, siamo qui per l'anteprima della ricerca di valore di, oltre alle generazioni, esperienze, relazioni e lavoro, oggi affronteremo e ascolteremo spunti, prospettive per un mondo del lavoro più equo, sostenibile e inclusivo. Purtroppo non è potuto essere con noi in presenza, ma ci ha mandato un messaggio il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, che si dispiace moltissimo di non essere con noi, però ci ha mandato questo video. Vediamolo insieme. Arriva. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Innanzitutto scusatemi, scusatemi perché avrei dovuto essere fisicamente oggi con voi, purtroppo impegni istituzionali, mi hanno trattenuto la Camera, ma desideravo comunque rivolgervi questo videomessaggio, perché l'esperienza di oggi, che significa riportare un dato fondamentale, che è quello che proviene da chi conosce la materia, il fatto che Valore D. abbia interrogato attraverso il suo centro studi 18 mila persone, significa che costituisce e ha costituito una banca dati fenomenali per capire. Capire cosa? Capire un momento storico nel quale quattro generazioni si trovano contemporaneamente a vivere il presente. E già questo è un dato nuovo e diverso, perché chiama, interpelle il legislatore a impegnarsi per capire e avere una sfaccettatura diversa rispetto a queste quattro generazioni. Se pensiamo che le rivoluzioni industriali si distanziano di almeno 25-50 anni, questo invece è un momento in cui coesistono quattro rivoluzioni umane nello stesso momento. Significa allora, nonostante i dati siano positivi riguardo all'occupazione femminile, quello che ci suggerisce l'Istat ci dice che siamo sulla strada giusta, ma non è ancora la strada definitiva che possa intervenire in maniera sempre più virtuosa sul rapporto tra il lavoro e la vita privata. Mai più, abbiamo detto, dovrà mai succedere che una donna sia chiamata a scegliere tra la vita privata e il lavoro, sempre più invece bisogna coniugare queste due esigenze. Arriviamo anche a un altro spunto di questa ricerca che è relativa all'intelligenza artificiale, a come l'intelligenza artificiale possa coesistere, coabitare e nello stesso tempo aiutare a sviluppare questo rapporto perché sia il più virtuoso possibile. È questo uno dei momenti centrali della discussione odierna ed è questo uno di quei temi che impegna ora per allora il governo e il legislatore. È fondamentale allora acquisire da valore di ciò che impegna e dovrà impegnare chi fa le leggi e chi è chiamato a dare le risposte più compiute. Questo deve succedere adesso, il tempo è già ora e le esperienze soprattutto dell'estero, soprattutto dagli Stati Uniti, ma senza dimenticare alcuni in ambito europeo, ci suggeriscono che prima inizia il cammino verso la trasformazione, prima si arriva al risultato. È con questo spirito che va compulsata la ricerca di valore di e con questo spirito che vanno ringraziati tutti coloro che l'hanno resa possibile. Grazie a tutti e buon lavoro. Bene, ringraziamo il Vice Presidente della Camera dei Deputati per essere stato con noi diciamo anche se solo con un video e passiamo a questo punto ai saluti introduttivi di Cristiana Scelsa che è Presidente di Valore D e poi vi presenterò il primo panel. Buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare il Presidente Mulè per aver voluto promuovere questa iniziativa di Valore D. Grazie. Saluto inoltre i relatori presenti e tutti gli associati di Valore D che hanno reso possibile la ricerca che oggi vi presentiamo in assoluto anteprima. Mi dispiace molto non essere presente lì fisicamente con voi ma per ragioni di lavoro sto viaggiando fuori dall'Italia. Sono comunque onorata e felice di aprire questo evento con un messaggio di saluti. Il tema che affrontiamo oggi è un tema di grande attualità. Stiamo assistendo a dei cambiamenti radicali nel mondo del lavoro e vedremo anche come l'attuale quadro demografico stia contribuendo a questi cambiamenti. Viviamo un momento storico che oserei definire unico. Per la prima volta nelle nostre organizzazioni convivono quattro generazioni diverse, ognuna con bisogni e visioni differenti. Per le aziende diventa fondamentale capire le dinamiche e soprattutto capire quali fattori muovono le persone nelle diverse età della vita. Il titolo della ricerca è Oltre le generazioni. Andare oltre le generazioni non significa trascurare l'unicità delle identità e dei bisogni delle persone nei diversi momenti della loro vita. Al contrario, i contenuti della ricerca, così come il titolo, sono un invito a guardare le diversità come un punto di partenza per poi esplorare come gli individui si relazionano inoltre di loro, nonostante le diversità. In continuità con le precedenti ricerche, con questo lavoro abbiamo provato non soltanto a capire quante e quali diversità generazionali siano presenti nelle imprese italiane, ma abbiamo studiato le differenze e i punti di contatto tra le persone, partendo da temi chiave, quali i valori, le motivazioni, gli ostacoli e le relazioni. Constatare le diversità è un processo descrittivo, ma comprendere come metterle in relazioni e favorire l'inclusione è prima ancora che un progetto di ricerca un impegno, una necessità, un impegno che in questo caso è stato sentito e corale. Ringrazio ovviamente il nostro centro studi, il Behave Lab dell'Università degli Studi di Milano e ringrazio il professor Alessandro Rosina che ha curato la prefazione della ricerca. Non voglio dilungarmi ulteriormente, non voglio togliere tempo ai lavori dell'aggiornata odierna che spero rappresenti un momento di riflessioni, di spunti interessanti, così come è stato per me quando ho letto la ricerca. Mi scuso ancora per non essere lì con voi e ringrazio nuovamente il presidente Mule. Buon lavoro a tutti. Bene, ringraziamo la presidente allora. Entriamo subito. Il applauso ci sta benissimo. Entriamo nel vivo del panel. Vi presento chi animerà questo primo panel. Il professor Alessandro Rosina, lo ha anticipato la presidente, docente di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. Poi abbiamo Ulrike Sauerwald, Head of Research and Knowledge Management di Valore D, il professor Raffaele Vacca, sociologo e Data Sciences Behave Lab dell'Università Statale di Milano. Allora, professor Rosina, partiamo con lei. Avete dieci minuti a testa per illustrarci insomma la vostra ricerca. Prego. Bene, grazie. Grazie per questo coinvolgimento da parte di Valore D in questa bella iniziativa e bella ricerca. Il punto di partenza è il fatto che al centro di un mondo che è in profondo cambiamento sta il rinnovo generazionale. Quindi porre come punto il rinnovo generazionale vuol dire mettersi al centro del mondo che cambia e del mondo del lavoro che cambia. Quindi il cambiamento avviene attraverso il rinnovo tra generazioni e funziona nel rapporto e nella collaborazione tra generazioni. Quindi questa è la chiave con cui dobbiamo guardare alle risposte poi che dobbiamo dare a qualsiasi livello. Bene, questo rinnovo generazionale, questa collaborazione tra generazioni è davanti alla sfida di due grandi trasformazioni che stanno mutando dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo questi aspetti centrali e sono l'innovazione tecnologica e la transizione demografica. Ed entrambe non hanno un impatto scontato che vuol dire che se si trova la chiave giusta per cogliere queste sfide, leggere queste trasformazioni e aiutarle ad andare nella direzione giusta si riesce ad alimentare crescita, sviluppo, innovazione e competitività. Altrimenti il rischio è di trovarsi davanti a squilibri quantitativi nel rapporto tra generazioni, si rieschia di vedere inasprire le disuguaglianze e si rischia poi di avere scarsa attrattività, di perdita di dinamismo e anche di perdita di competitività delle aziende. Quindi è veramente una sfida ineludibile e cruciale. Come affrontarla? Come premessa propongo due elementi chiavi. Il primo è quella dell'approccio dinamico perché non si tratta di trovare nuovi equilibri da consolidare, quindi dobbiamo insomma metterci nell'ottica che non siamo davanti alla ricerca di nuovi equilibri e una volta trovati nuovi equilibri li consolidiamo e siamo a posto, cioè soluzioni e risposte per nuovi equilibri. Quello che va fatto è gestire un cambiamento continuo, quindi abbiamo bisogno di risposte e strumenti che siano in grado di gestire ed affrontare un cambiamento continuo perché la cifra del tempo in cui viviamo è appunto la complessità ed è il rapido cambiamento e davanti alla complessità e al rapido cambiamento vuol dire che il futuro è sempre ancor più che in passato diverso dal presente e quindi anche incerto, quindi complessità e rapido cambiamento aumentano l'incertezza nei confronti del futuro, ma è evidente che l'incertezza nei confronti del futuro è anche il margine delle opportunità che si possono cogliere per migliorare il presente, però bisogna farlo appunto con strumenti adeguati e con l'approccio giusto. Quindi se il futuro è diverso dal presente, come possiamo migliorarlo? Facendo in modo che ciò che di diverso arriva e che cambia quindi il presente verso il futuro sia messo nelle condizioni di generare valore. La sfida è questa, fare in modo che la diversità diventi valore, che ciò che il futuro pone come diverso dal presente sia messo in condizione appunto di diventare valore. E quali sono queste novità quindi che si aprono in questa sfida continua del presente che si trasforma in futuro cambiando? Sono la novità delle nuove tecnologie, l'abbiamo detto, la novità delle nuove generazioni, che sono sempre qualcosa di nuovo che arriva e che cambia e che pone anche la propria novità dal punto di vista antropologico. Non sono semplicemente nuove competenze tecniche da formare rispetto alle aspettative che si ha nei loro confronti, nei confronti delle nuove generazioni. Bisogna mettersi nella lunghezza d'onda, nella misura anche rispetto a nuovi desideri, nuova visione del mondo, nuove idee di cos'è il lavoro, di cosa vuol dire essere protagonisti dei processi di cambiamento in atto e di quale novità le nuove generazioni portano e come aiutarla quindi a diventare valore. Quindi adesso non mi soffermo sugli aspetti legati anche al cambiamento qualitativo dell'idea di lavoro, ma è sicuramente un aspetto con cui bisogna continuamente confrontarsi perché cambia continuamente con ogni nuova generazione e quindi valorizzare i nuovi entranti, le nuove generazioni vuol dire appunto mettersi in sintonia con la novità che portano, che è sempre qualcosa di imprevisto e che arricchisce il quadro del presente. L'altro aspetto di novità sono le nuove fasi della vita, la longevità apre nuove opportunità inedite, nell'età che noi consideravamo tradizionalmente anziane, ma non possiamo più considerare tali, sicuramente non nel mondo del lavoro, non possiamo sicuramente parlare di lavoratore anziano per un attuale sessantenne, è del tutto inappropriato oggi. Oggi tra l'altro quest'anno arrivano a 60 anni i nati all'apice del baby boom, l'Italia ha avuto l'apice delle nascite nel 1964, quindi i sessantenni di oggi sono nati proprio nel punto più alto del baby boom e non portano solo la loro presenza quantitativa rilevante, ma anche appunto come interpretano quella fase della vita e come la interpretano in modo nuovo rispetto alle generazioni precedenti e che cosa possono fare e vogliono fare appunto di una fase della vita diversa che pone nuove sfide che vanno aiutate ad essere colte. E rispetto alla consapevolezza di affrontare una fase della vita che va anche impostata, arricchita e interpretata in modo diverso dal passato e che si confronta appunto con le sfide del presente, un aspetto interessante dei dati insomma che da varie ricerche ci arrivano, questa è un'indagine fatta rispetto alla fascia tra i 60 e i 74 anni che è quella in maggiore rivoluzione rispetto ai cambiamenti qualitativi nelle fasi della vita ed è interessante vedere come una delle attenzioni e delle sensibilità particolari che si hanno è l'importanza della qualità delle relazioni intergenerazionali e quindi fa capire come appunto questo sia un aspetto anche distintivo di una fase che può essere vissuta bene se è vissuta bene in relazione positiva con le generazioni più giovani. Ecco questo punto porta al secondo aspetto chiave oltre a quello dell'approccio dinamico ed è il fatto dell'importanza dell'aspetto relazionale che riguarda non solo quindi la sfida a poter cogliere queste grandi trasformazioni che abbiamo evidenziato con questo affrontare continuamente un cambiamento che richiede nuovi strumenti ogni volta da aggiornare ma anche la necessità di riconoscere che i territori, i paesi, le aziende, le organizzazioni che saranno maggiormente in grado di affrontare questi cambiamenti e di farlo con successo saranno quelli appunto che saranno valorizzare queste relazioni positive che appunto incontrano comunque anche i desideri, le attenzioni che i singoli portano nelle varie fasi della vita e queste relazioni riguardano non solo le relazioni tra generazioni, la collaborazione tra generazioni riguardano anche la relazione tra uomini e donne quindi anche di genere che è un altro aspetto centrale per trovare le risposte che poi migliorano la possibilità di costruire benessere in un mondo che cambia, la relazione tra fattore umano e nuove tecnologie, l'unione tra competenze tecniche e life skills, l'unione tra territorio e apertura a una rete internazionale e tutto questo quindi deve trovare sintesi appunto nella capacità di rafforzare queste relazioni e dove appunto nei territori e nei paesi e nelle organizzazioni in cui si va in questa direzione sono quelle poi che oltre a valorizzare le diversità valorizzano anche le esperienze e consentono di rafforzare la capacità di innovazione, aumentano il senso di appartenenza e di engagement e poi alla fine aumenta anche la produttività e aumenta anche l'apertura al cambiamento e quindi la competitività. quindi queste sono un po' le macro coordinate rispetto alle quali diventa importante poter leggere anche i vari risultati delle analisi che dalle varie ricerche sono portate rispetto appunto a come queste sfide vanno colte e questo per chiudere è l'approccio fondamentale che serve poi per rispondere alla transizione demografica anche i cambiamenti demografici che sono appunto uno degli grandi sfide che il nostro paese poi in particolare ma collettivamente l'Europa tutte le economie amature avanzate stanno affrontando. Abbiamo perso, siamo oltre quello che era il dividendo demografico, si sta riducendo in maniera rilevante la popolazione in età lavorativa e quindi bisogna accogliere le opportunità del secondo dividendo demografico. Il secondo dividendo demografico vuol dire compensare la riduzione quantitativa della forza lavoro con un forte potenziamento qualitativo. e quindi andare in questa direzione appunto rispetto agli elementi che abbiamo richiamato è esattamente dare risposte che vanno in questa direzione e che colgono questa sfida. Chiudo dicendo appunto che il titolo Oltre le generazioni ha questa accessione almeno a mio avviso del termine Oltre. L'andare Oltre vuol dire metterle in relazione, vuol dire andare verso quello che consente di riconoscere appunto come è stato detto le diversità e aiutare queste diversità a poter essere condivise e assieme consentire a ciascuno di poter produrre valore ma poter farlo insieme agli altri. Grazie. Grazie. anche il modo con cui dobbiamo intendere il proprio il modo di affrontare questo secolo cioè il secolo precedente, il ventesimo secolo, quello in cui hanno vissuto una parte delle generazioni che adesso comunque continuano ad essere nel mondo del lavoro ma che si confrontano con generazioni che sono invece proprie del ventunesimo secolo che sono nate addirittura all'interno di questo secolo e qui c'è un passaggio enorme che quindi ha bisogno del confronto tra generazioni per poter essere gestito in meno adeguato. Nel ventesimo secolo noi abbiamo costruito benessere attraverso la quantità quantità di popolazione, quantità di anni di vita in più, quantità di consumo, quantità di produzione mentre la chiave del successo del benessere del ventunesimo secolo è la qualità, è la qualità degli anni in più non basta spostare in avanti le edà pensionabili e lavorare di più quantitativamente le persone bisogna aiutarle a dare qualità al proprio essere attivi nel mondo del lavoro, qualità dei servizi messi a disposizione delle persone qualità del lavoro che è fondamentale messo al centro delle esigenze delle nuove generazioni e qualità delle relazioni che è l'elemento proprio centrale, cioè la qualità delle relazioni poi è l'elemento che poi consente di unire anche tutto il resto, la ricerca questa cosa la fa emergere in maniera molto chiara. Grazie professore, adesso la parola passa a Enrique Sauerwald per continuare questo viaggio oltre le generazioni, prego Grazie Non ce la possiamo fare Oltre anche la tecnologia Mentre risolviamo l'aspetto tecnico che prima mi riusciva Benissimo, no ma grande Possiamo vederlo grande Ok, grazie Allora, dal nome capite che sono tedesca ma Italia per me rappresenta casa da oltre 30 anni quindi sono particolarmente felice di essere qua in questo luogo E da persona, diciamo, da cavallo tra generazione X e Boomer Ho cresciuto due ragazzi multiculturali della generazione Z E ho trovato nei risultati della nostra ricerca che vi presento tante conferme ma anche qualche sorpresa Ed è utile comprendere, come ha detto anche il professor Rosina proprio le relazioni tra i gruppi generazionali perché convivono in azienda ma innanzitutto sappiamo che convivono in casa, nella società Quindi nelle aziende non può essere diverso Quindi questo, grazie che hai dato questa lettura subito al pubblico che ci segue perché è davvero una chiave importante di questo lavoro Solo un paio di dati che sono stati già citati sul perimetro della ricerca sia quantitativa che qualitativa Sono stati raccolti le risposte di oltre 18.000 rispondenti appartenenti a quattro generazioni attive oggi nel mercato del lavoro ma nella società anche Abbiamo coinvolto anche in una fase qualitativa i responsabili HR e esperti dell'inclusione di circa metà delle oltre 60 aziende partecipanti e tante di queste persone sono anche qui presenti e davvero ringrazio chi ha fatto parte Vado al perché abbiamo fatto questa ricerca e quali sono state le domande a cui volevamo rispondere diciamo per darvi un po' un ordine di come l'abbiamo affrontato era sicuramente importante comprendere le motivazioni lavorativi e i valori che accomunano e distinguono i bisogni delle diverse generazioni Volevamo capire anche quali sono gli ostacoli lavorativi che le persone nelle organizzazioni sperimentano proprio sulla base della loro età a volte sentiamo pubblicazioni sulle difficoltà della generazione Z la difficoltà dei senior viene affrontato molto meno noi volevamo proprio capire dove stanno i nodi da sciogliere nelle aziende Una prospettiva nuova è la domanda in che modo le persone di diversa età si relazionano tra di loro al di là dei loro ruoli formali in azienda e chi dà sostegno a chi, chi ha ascoltato, chi meno quindi è molto concreto abbiamo guardato questo aspetto da più sfaccettature Il dato che, diciamo, siccome LavoriDi lavora da 15 anni per rendere le aziende più inclusive volevamo anche comprendere in che modo le aziende stanno lavorando sul tema generazionale per poter contribuire con la ricerca per trovare soluzioni concreti a bisogni rilevati molto concreti Quindi sono queste le domande che hanno guidato la ricerca oltre le generazioni vorrei ringraziare soprattutto le qui presenti ricercatrici Dalila Dingeo e Nicole Gila e tutti coinvolti, diciamo, per la passione con cui abbiamo lavorato insieme a ottenere queste risposte Guardiamo, quindi... ecco, funziona, non salta è l'oggetto più sensibile in questa sala Scusate, non volevo... Quindi, guardiamo cosa è emerso quale caratteristica hanno le generazioni che rappresentano la popolazione dei occupati Allora, le nuove generazioni la generazione Z e millennial sono multiculturali diciamo, come la mia famiglia abbiamo trovato che il 13% della generazione Z sono nati in Italia ma da genitori non italiani o nati all'estero Questo è un dato che qui non è raffigurato in grafico però è totalmente diverso dalle generazioni precedenti quindi abbiamo comunque più di uno su dieci quindi ha un background multiculturale oggi Sono anche più formate la generazione Z sono più formati accademicamente hanno maggiori esperienze di studio o lavoro all'estero questo è il grafico sulla sinistra dove vedete che per la lettura futura i baby boomer sono a sinistra a destra la generazione Z e quindi la parte dei colori più chiari è l'esperienza all'estero quindi in metà ha fatto un'esperienza di studio e lavoro all'estero e quindi hanno rispetto alla generazione senior sono sicuramente più dinamici mentre i senior hanno un background di studi più tradizionale nonostante il livello educativo elevato delle giovani generazioni andiamo sulla parte di destra vediamo che le competenze con cui i giovani entrano nel mondo del lavoro quindi più formati diciamo formati anche all'estero vivono una condizione di forte precarietà contrattuale e vulnerabilità rispetto alle generazioni precedenti notate nel grafico a cerchio a destra in basso che rappresenta la generazione Z i tipi di contratto di lavoro delle diverse generazioni il blu scuro rappresenta i contratti indeterminati vediamo che oltre un terzo dei giovani non ha questo tipo di contratto sono contratti determinati apprendistato, somministrazione e stage anche questo è un dato importante perché si vogliono spendere nel mondo del lavoro sono formati però non sono assunti con contratti determinati quindi non hanno una stabilità come le altre generazioni quindi baby boomer generazione X vivono a confronto a una condizione di stabilità contrattuale retributiva molto rilassata per comprendere davvero le generazioni non ragionare diciamo per stereotipi abbiamo chiesto quali sono i valori delle persone nella vita privata e sociale ci provo quindi abbiamo cercato di capire se le generazioni diverse hanno anche valori differenti che è un po' la base emerge che famiglia e salute e benessere sono i due valori principali per tutte le generazioni che sono distaccati rispetto al terzo valore quindi famiglia, salute e benessere per la lettura sono le dimensioni in alto e a destra dove questo grafico a dispersione esce di più quindi questi sono i valori determinanti mentre il lavoro resta importante per i baby boomer baby boomer è sempre la linea più scura poi oggi potrete vedere la ricerca diciamo in PDF quindi potete consultarla con calma linea scura baby boomers la linea pink diciamo rosa sono la generazione Z quindi osservate un po' come si muove la forma il lavoro resta importante per i baby boomer generazione X e millennial e si osserva un forte cambio di paradigma valoriale nella generazione Z i giovani entrano nel mondo del lavoro portando una prospettiva diversa che si contraddistingue diciamo per il desiderio di coltivare altre dimensioni della vita personale come appunto la famiglia, gli amici, il tempo libero però nella vita della generazione Z il lavoro perde di centralità quindi la linea rosa tira dritto sulla dimensione lavoro che è tutto a destra questo non significa che il lavoro non sia rilevante ma che uno dei aspetti da coltivare si tratta di un spostamento valoriale importante che è indicativo di un cambiamento culturale di cui leggiamo sempre nella stampa che ha un impatto anche sulle scelte di carriera come viene vissuta ed impostata lo sviluppo professionale però leggiamolo sempre con il dato che ho detto prima non hanno una stabilità contrattuale quindi perché dovrebbe essere centrale che non so neanche se a fine mese vengo confermata ora è molto interessante guardare questo dato anche in ottica intersezionale cioè guardando le differenze tra uomini e donne su questo aspetto le donne in particolare quelli della generazione Z e millennials attribuiscono una maggiore importanza al lavoro rispetto agli uomini anche per raggiungere una necessaria indipendenza sociale ed economica qui vediamo le donne rappresentate con la linea rossa i uomini in blu vi invito a osservare i due grafici in basso spero che si veda anche in fondo dove la linea rossa rappresenta le donne e delle giovani in generazione che va oltre la linea blu dei uomini sulla dimensione lavoro quindi per affermarsi nella sfera lavorativa le donne giovani non rinunciano alla sfera familiare perché esce ancora la linea rossa ma diversamente dai uomini nella stessa fascia d'età sottraggono tempo al proprio benessere e alle amicizie quindi le donne si impegnano diciamo hanno un forte valore sulla famiglia e sul lavoro ma per far quadrare tutto comunque da qualche parte sottraggono le energie questo dato smentisce anche un po' lo stereotipo che vede le donne meno impegnate sul lavoro però da qualche parte comunque investono purtroppo meno e questo se vogliamo io sono una donna lavoro con donne e uomini è comunque un dato allarmante cioè dà anche energia frequentare, avere amicizie e curare il proprio benessere se quello che ho detto fin qua riguardava i valori quindi ciò che è ritenuto importante nella vita delle persone in generale abbiamo poi indagato cosa è importante per i lavoratori e lavoratrici quali sono i loro bisogni e motivazioni sempre nell'ottica di dare con questi dati indicazioni concreti alle aziende ed organizzazioni abbiamo l'elenco originale è molto più lungo vi poniamo i primi dieci posizioni di questo ranking delle motivazioni, bisogni e priorità dei lavoratori e lavoratrici nelle diverse età e vediamo che la copertura sanitaria e la stabilità contrattuale sono in cima alla classifica dei driver più importanti per i più senior mentre i millennial e generazione Z l'importanza dei congedi è decisamente salita nel ranking abbiamo cercato così con i colori proprio di farvi vedere le scalette di come si spostano questi bisogni attraverso le generazioni per le giovani generazioni la possibilità di ottenere congedi è un driver importante chiedono un riconoscimento della genitorialità che vada oltre gli stereotipi di genere e che consideri responsabilità e diritti di entrambi i genitori abbiamo tutti questi dati li abbiamo anche dal punto di vista intersezionale quindi abbiamo osservato bene anche su questo aspetto come hanno risposto uomini e donne quindi vi porto questo dato che anche gli uomini hanno portato il tema dei congedi nelle posizioni in alto e questo però sempre evitando ripercussioni negativi in particolare sulla carriera delle donne cioè le donne non chiedendo il congede comunque non vogliono rinunciare alla carriera Faccio un approfondimento per un aspetto che abbiamo toccato già negli interventi prima che è un'evidenza da considerare quando si parla di mancanza di persone qualificate la prospettiva di una generazione molto numerosa che andrà in pensione nei prossimi anni e la velocità della trasformazione digitale è il tema dell'upskilling e del reskilling Stare al passo quindi con la richiesta di competenze nuove viene ritenuto molto o abbastanza importante da quasi tutti i rispondenti e accomuna le quattro generazioni quindi anche lì tutti vogliono ancora imparare, cambiare e acquisire nuove competenze anche durante tutta la loro carriera quindi il miglioramento e l'ampliamento delle competenze emerge soprattutto nella generazione Z vediamo che l'80% della generazione Z lo considera molto importante l'upskilling 80% dice molto importante io voglio ancora imparare però anche le altre generazioni non sono da meno diciamo che il molto importante è il blu scuro e comunque vediamo che nei baby boomers metà dei baby boomers lo ritiene ancora un aspetto molto importante quindi uno su due e gli altri abbastanza importante quindi c'è la percentuale di chi non vuole più acquisire nuove competenze che comunque vuole stare al passo diciamo con il cambiamento con la trasformazione digitale è veramente irrisoria quindi questo approfondimento è fondamentale comprendere bene le motivazioni dei lavoratori e lavoratrici perché non dobbiamo ragionare per stereotipi parlare solo di quelli che vogliono imparare quelli che vogliono fare carriera e quelli che vanno in retirement sono tantissimi anni che si vogliono ancora per andare in pensione per tantissime persone e quindi le persone chiedono proprio di sviluppare le competenze durante tutta la vita lavorativa per chi vuole e per chi deve rimanere in azienda perché ancora non è pensionabile e questo è un dato importante per le aziende avevamo citato prima anche nelle conversazioni che anche il concetto del talento nelle aziende viene rivisto cioè una volta il talent management questi talenti finivano a 35 anni e quindi da 35 fino a 67 le persone non sono più talenti quindi sono domande che ci dobbiamo porre anche non porto il grafico però anche l'importanza di implementare forme di lavoro sostenibile è un altro aspetto la flessibilità e lo smart working che accomuna le generazioni quindi lo stanno chiedendo in maniera simile sia donne e uomini ma anche tutte le generazioni perché le forme flessibili di lavoro contribuiscono al benessere e anche alla possibilità di bilanciare lavoro e vita privata e quindi non è solo un'esigenza dei giovani però dove stanno quindi i nodi da sciogliere per le aziende quello che ho detto proprio all'inizio dove l'età influenza l'esperienza lavorativa delle persone può costituire un ostacolo in vari momenti della vita lavorativa e quindi questi sono anche gli aspetti sui quali le organizzazioni e le istituzioni possono intervenire in modo risolutivo vediamo qua di nuovo dove il studio rileva una difficoltà nel gestire e valorizzare da un lato l'esperienza dei più senior e la voglia di innovazione e di dare le competenze dei più junior anche qui diciamo che è interessante poi lo vedrete poi con calma osservare la forma quindi le due forme esterne sono i baby boomers e giallo la generazione X che mostrano una forma simile e in particolare i baby boomers si sentono poco valorizzati perché vedono per esempio nel cercare un nuovo lavoro questo per loro è un ostacolo certo perché uno ha 58 anni non facilmente trova un nuovo lavoro quindi questa la possibilità di cambiare è per loro un ostacolo però persiste la voglia di contribuire attivamente anche trasmettendo il proprio know-how alle nuove generazioni e quindi di essere considerato un talento come ho detto prima che non è un concetto legato all'età però in molti invece si sentono delle generazioni più grandi in un limbo di prepensionamento però hanno un grado di autorevolezza quindi vediamo alto il valore posso esprimere la mia opinione tra i colleghi analogamente nella generazione Z che è la forma sempre pink cambia proprio forma si trova in un'altra zona d'ombra della vita aziendale che tra ingresso in azienda è pieno riconoscimento metà dei rispondenti di questo gruppo percepisce la proprietà come un ostacolo nel far valere le proprie opinioni quindi non sono ascoltati cioè sono formati internazionali però vedono che non riescono a esprimere i propri opinioni con altri colleghi responsabili in quella fascia età si riscontrano anche difficoltà per quanto riguarda le condizioni lavorative questo l'abbiamo già detto mancanza di contratti stabili i millennials che sono la linea verde che sono diciamo la forma più piccola sono potenzialmente diciamo un po' nella golden age dell'attuale mercato di lavoro perché più piccola la forma meno ostacoli vedono però anche lì uno su tre vede la proprietà come un ostacolo per ottenere una promozione e riscontrano anche difficoltà nello sviluppo professionale e personale però complessivamente diciamo loro di ostacoli ne trovano meno e gli ostacoli di cui fanno esperienza le persone nelle varie generazioni in azienda sono proprio il momento in cui possiamo riflettere su cosa possono fare le aziende e le istituzioni diciamo è fondamentale fondamentale valorizzare i punti di contatto tra generazioni considerando le differenze immerse li abbiamo capiti però ci sono anche tanti punti di contatto che possiamo forse evidenziare uno era la sostenibilità lavorativa inteso come flessibilità di lavoro che è essenziale per tutte le generazioni così come anche l'aumento delle competenze in termini di upskilling quindi mi ritrovo assolutamente nel quadro che il professor Rosina ci ha dato prima l'ottenimento dei congedi senza avere effetti negativi sulla carriera è importantissimo per le persone trattandosi poi di una generazione che deve ancora conquistare un'assunzione con un contratto indeterminato per dare un po' di stabilità per fare un muto sappiamo quindi anche questo aspetto comunque dei congedi per i carichi di cura comuna tutti i bisogni delle fasce generazionali perché il carico di cura non è solo un tema dei bambini piccoli cioè è un aspetto che accompagna le persone in tutte le generazioni quindi investire sui temi trattati significa contribuire alla salute al benessere di tutte le persone al lavoro a prescindere dall'età e dal genere e ora quest'ultimo aspetto indagato nella ricerca che abbiamo citato come anche fondamentale sono le relazioni che instaurano tra le varie generazioni a lavoro e comprendere analizzare le dinamiche relazionali tra le varie fasce d'età contribuisce alla creazione di politica e strategia e sicuramente costituisce l'aspetto più innovativo di questa ricerca e sul tema delle reti sociali in azienda abbiamo lavorato come è stato già detto per questa ricerca con un centro universitario tra i più avanguardia in Italia che è il Behave Lab dell'Università Statale di Milano ed è un punto di riferimento sulla scienza delle reti sociali e dei metodi computazionali in Italia e in Europa e ho il grande piacere di introdurre il nostro partner Raffaele Vacca in questo percorso in questa ricerca che rappresenta il Team Behave Lab per questo evento e il suo intervento farà comprendere il potenziale di questo metodo di indagine innovativo e sulle implicazioni dentro e fuori del mondo aziendale di cui poi mi sono confrontato anche con le persone delle aziende prima grazie allora prima di dare la parola a Vacca una curiosità ma resiste il mito del posto fisso o la generazione Z vive proprio un altro modo ha un altro approccio rispetto al mondo del lavoro non ha il posto fisso l'abbiamo visto quasi la metà ma lo cerca ancora o no? Allora lo cerca un po' meno però mi viene da dire se poi vuole fare un mutuo per avere una casa in banca la banca ce lo chiede quindi è più un bisogno che una necessità che una necessità esattamente il sistema non è pronto per non averlo grazie Raffaele Vacca attenzione accendo il microfono così c'è la possibilità è acceso? mi avvicino verso lì perché è acceso? no sì provato ma ecco forse adesso la lucetta è accesa eccolo perfetto mi avvicino lì perché il puntatore è collegato con quel computer no? anche al podio perfetto ok tengo il tempo perché noi abbiamo questo difetto di tendere a parlare un po' troppo ok benissimo diversità in relazione dunque grazie grazie per la presentazione grazie per l'invito mi ricollego qui a un'osservazione fondamentale del professor Rosina e anche ripresa poi dalla dottoressa Sauerwald sulla sull'importanza di passare dalla quantità del lavoro alla qualità del lavoro e su come le relazioni umane le relazioni sociali e le relazioni personali siano un driver fondamentale una fonte fondamentale di qualità del lavoro perché abbiamo deciso di concentrarci su questo aspetto sull'aspetto delle relazioni umane delle relazioni sociali nel mondo del lavoro perché ci siamo resi conto di una una mancanza un limite nell'approccio tradizionale nel modo tradizionale in cui guardiamo alle aziende e alle organizzazioni in Italia che è questo cioè ragioniamo in termini normalmente di ruoli formali e di organigrammi oppure è questo soprattutto in contesti di diversity equity e inclusion ragioniamo in termini di individui i puntini nodi blu e rossi individui e le loro caratteristiche individuali i loro attributi personali il genere l'età quindi ragioniamo normalmente in termini di ruoli oppure di categorie sociali astratte le donne i giovani i senior molto più raramente guardiamo a come questi puntini sono collegati alle relazioni i legami sociali le interazioni tra gli individui le relazioni effettive e le reti informali tra le persone in azienda che cos'è un legame in quest'ottica che cosa voglio dire quando dico legame o relazione sono queste linee che possiamo utilizzare per rappresentare tante cose diverse possiamo utilizzarle per rappresentare la collaborazione professionale Paolo e Silvia lavorano insieme su uno o più progetti oppure possiamo usare queste linee per rappresentare i consigli sul lavoro chi dà consigli a chi Paolo dà feedback o consigli sul lavoro a Silvia oppure l'aiuto il sostegno reciproco al di là del mondo del lavoro su problemi personali su problemi familiari dipende dai dati che raccogliamo dipende dalle informazioni che studiamo e che analizziamo e questi dati e questo tipo di analisi questo tipo di visualizzazioni ci permettono di vedere di osservare delle realtà e dei fenomeni che se guardassimo solo i puntini solo i nodi con i loro colori non vedremmo in questo esempio vediamo che nella rete reale dell'azienda c'è separazione ciò che gli scienziati sociali chiamano segregazione separazione tra i colori le persone dello stesso colore tendono a interagire tra di loro ma si interagisce poco con il colore diverso quindi ci sono molte linee tra puntini dello stesso colore poche linee gialle tra gruppi diversi o categorie sociali diverse queste categorie sociali diverse questi potrebbero essere generi uomini e donne oppure potrebbero essere come nella nostra ricerca generazioni senior e junior potremmo avere esattamente le stesse persone esattamente con le stesse caratteristiche individuali in un'altra organizzazione ma relazioni completamente diverse una distribuzione completamente diversa dei legami e quindi una struttura della rete informale effettiva completamente diversa come in questo esempio se adesso sulla base dei nuovi dati dei nuovi legami che osserviamo andiamo a riordinare i puntini per rendere la struttura più chiara vediamo con le stesse persone gli stessi individui le stesse caratteristiche personali una struttura di rete completamente diversa una realtà un ambiente nell'organizzazione nell'azienda molto diverso in cui per esempio c'è ora molto più mix tra i colori nella rete adesso si interagisce molto più con persone dell'altro gruppo uomini e donne oppure senior e junior la struttura di rete quindi non si vede qui non si vede molto bene l'ombra grigia dietro i nodi la struttura di rete ci fa vedere qualcosa che prima non vedevamo fa emergere posizioni nella rete fa emergere proprietà nella rete vediamo ad esempio che ci sono due sottogruppi quelle che chiamiamo comunità di rete nelle scienze sociali o nella nella scienza delle reti quella di sinistra e quella di destra vediamo adesso come ho detto prima che c'è molta più eterogeneità nelle comunità di rete i colori sono mischiati vediamo che c'è una persona quella indicata dalla freccia rossa che è al centro e fa da ponte tra le due comunità di rete mentre ci sono altre persone che sono più periferiche più marginali in posizioni meno centrali nella rete in altre parole i dati di rete le visualizzazioni e le analisi di rete come dicevano questi colleghi che una ventina di anni fa nel California Management Review furono tra i primi ad applicare questi metodi allo studio delle aziende e delle organizzazioni ci permettono di vedere l'invisibile portano alla luce una serie di relazioni di scambi e di lavoro che altrimenti non vedremmo chi collabora veramente con chi chi dà consigli professionali o aiuto o sostegno a chi quali sono i gruppi reali effettivi in azienda e quali sono le divisioni reali in azienda al di là dei ruoli formali e delle categorie astratte quali sono le persone più centrali e più importanti da mantenere in azienda quindi su cui puntare di più ad esempio in azioni di retention quali sono le persone in quelle posizioni strategiche come il nodo che fa da ponte lì tali per cui se se ne andassero creerebbero lo scompiglio o un'alta frammentazione un'eccessiva frammentazione nella rete e l'analisi delle reti ci permette di misurare di studiare di intervenire anche sulla coesione sociale sulla solidarietà sulla cooperazione collaborazione tra gruppi oltre il mondo aziendale faccio due esempi molto rapidi da progetti dei colleghi al Behave Lab la dottoressa Elena Giovannis e il professor Flaminio Squazzoni il direttore del Behave Lab abbiamo lavorato insieme con questi metodi per studiare il supporto intergenerazionale nelle famiglie italiane a cui accennava anche il professor Rosina quindi reti di aiuto e sostegno reciproco tra generazioni diverse intorno agli anziani in Italia oppure le relazioni affettive di amicizia tra ragazzi e ragazze quindi tra generi diversi nelle scuole italiane nelle scuole superiori queste reti e questi dati possono essere utilizzati anche per creare simulazioni al computer e effettuare esperimenti è una cosa che facciamo spesso al Behave Lab per valutare gli effetti di politiche e interventi sul mondo del lavoro sulla coesione sociale o su altri outcome e risultati come abbiamo messo tutto questo in pratica nel report generazioni e nello studio generazioni ci siamo concentrati su quattro tipi di relazione in azienda i consigli sul lavoro chi dà consigli e feedback sul lavoro a chi il supporto con competenze soft chi aiuta chi nell'imparare competenze soft ad esempio a risolvere i conflitti a lavorare in squadra il supporto e l'aiuto con competenze tecniche chi aiuta chi nell'imparare un nuovo software o una nuova lingua e poi quello che in sociologia chiamiamo il supporto emotivo cioè l'aiuto il conforto con problemi personali problemi familiari oltre il lavoro abbiamo analizzato reti aggregate i puntini sono ora non persone ma gruppi di persone e sono combinazioni di genere e generazione quindi il quadrato giallo sono gli uomini di generazione X il cerchio verde sono le donne millennial e notate che qui le reti le linee sono adesso frecce cioè hanno una una direzione il gruppo che manda la freccia è il gruppo che chiede aiuto che nomina l'altro gruppo che nomina persone nell'altro gruppo per ottenere aiuto quindi chi riceve molte frecce sono le persone che danno molto aiuto agli altri cosa abbiamo osservato abbiamo osservato che nella rete dei consigli sul lavoro chi dà consigli e feedback sul lavoro a chi i quadrati sono più centrali cioè gli uomini tendono ad essere più centrali rispetto alle donne i verdi e i gialli sono più centrali cioè i millennial e la generazione X tendono ad avere maggiore centralità rispetto a baby boomers e generazione Z che tendono ad essere i rosa e i rosso scuro più marginali e più periferici quindi meno inclusi meno integrati in queste reti di consigli professionali soprattutto sono centrali dove vedete la freccia rossa gli uomini di generazione X il quadrato giallo e sono questi risultati che probabilmente riflettono la distribuzione di autorità formale di potere formale nelle organizzazioni italiane nella rete di supporto su competenze tecniche di nuovo i quadrati tendono ad essere più centrali gli uomini rispetto alle donne e i verdi e i gialli sono più centrali ma emergono gli uomini millennial il quadrato verde come il cuore operativo delle aziende italiane le persone che danno più supporto con competenze tecniche mentre baby boomers e generazione Z tendono ad essere in posizioni più marginali ciò che ci ha colpito molto è come tutto questo cambi quando andiamo a vedere la rete di supporto su competenze soft a sinistra e la rete di supporto emotivo all'improvviso i cerchi diventano più centrali le donne rispetto agli uomini le donne di generazione X e millennial soprattutto i cerchi verdi e gialli emergono come il punto di riferimento delle aziende italiane in questi due ambiti l'aiuto con competenze soft e il supporto emotivo i rosa e il rosso scuro i baby boomers e la generazione Z sono ancora in posizioni periferiche alcune conclusioni che ne abbiamo ricavato che abbiamo ricavato da tutti questi dati e queste visualizzazioni numero uno vediamo ancora forse dei contesti molto tradizionali nelle aziende italiane in cui l'età rappresenta ancora un vincolo un limite una costrizione alle relazioni personali l'età guida ancora molto chi interagisce con chi si chiede consiglio si chiede aiuto soprattutto a persone nella propria stessa fascia d'età oppure magari alla generazione contigua la generazione Z ai millennial i millennial alla generazione X sono sempre molto distanti le persone ai poli opposti della distribuzione dell'età la generazione Z è molto distante dai baby boomers o i baby boomers dai millennial vediamo seconda conclusione che baby boomer e generazione Z sono le generazioni meno incluse meno integrate meno centrali nelle reti sociali lavorative come vedete in questa figura viceversa gli uomini di generazione X tendono a emergere come le figure più centrali in azienda probabilmente una posizione effettiva reale nelle reti informali che riflette posizioni formali di riferimento di autorità e di potere nelle organizzazioni gli uomini millennials sembrano essere il cuore delle reti informali soprattutto di tipo tecnico operativo nelle aziende italiane pur avendo spesso un riconoscimento professionale ed economico più limitato rispetto alle generazioni più anziane e infine vediamo che le donne diventano centrali come ho detto prima nelle reti di aiuto emotivo e di aiuto su competenze soft c'è una visione pessimistica di questo risultato potrebbe riflettere vecchi stereotipi di genere su ciò che le donne sono brave o non sono brave a fare oppure la visione ottimistica potrebbe riflettere nuovi modelli di leadership proposti dalle figure femminili nelle organizzazioni italiane modelli di leadership appunto fondati sulle competenze soft sulla risoluzione dei conflitti sul lavoro di squadra o sul supporto emotivo sull'aiutarsi e il darsi sostegno reciproco anche oltre al di là del mondo del lavoro in generale vediamo che azioni ed interventi di diversity equity and inclusion sono certamente più efficaci più potenti quando non si limitano ai puntini con i loro colori agli individui con le loro caratteristiche individuali ma guardano anche le linee e le strutture che queste linee creano tra i puntini quindi le relazioni le reti mappano e valorizzano le reti informali in azienda grazie 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 allora questo lo chiudiamo ringraziamo i nostri relatori e andiamo nella pratica a sentire le testimonianze aziendali quindi chiamo qui a raggiungermi mentre loro lasciano il desk grazie mille grazie vorrei chiamare Paola Cornero HR Director Generale Secretari dei Carrefour Italia Antonella Salvatori responsabile Direzione e Sviluppo Risorse Umane di Credit Agricola Italia Maria Enrica Danese Corporate Communication e Sustainability Director della team allora innanzitutto vorrei fare con voi un giro per commentare quello che abbiamo sentito fino a ora che cosa vi ha colpito che cosa vi ha stupito anche allora dottoressa Cornero parto da lei buongiorno a tutte a tutti innanzitutto ma diciamo che ho ritrovato in questa ricerca tantissimi spunti molto interessanti e che soprattutto come dire ci ritroviamo a vivere ogni giorno all'interno delle nostre aziende se pensiamo ad esempio al tema quindi ai valori che sono stati indagati tra le diverse generazioni c'è questa preminenza comunque in cima alla lista legata al tema della famiglia della salute del benessere questo è un tema che oggi interpella fortemente le aziende cioè come l'azienda può considerare i suoi collaboratori le sue collaboratrici nella loro interezza come persone cioè non considerarle soltanto come risorse che lavorano ma come persone che hanno dei bisogni e come l'azienda può dare risposte o supportare per venire incontro a questi bisogni l'altro tema è quello della diversa importanza del lavoro per la generazione Z sono dei temi di cui discutiamo ogni giorno da un lato come tenere agganciata questa generazione dei temi di ingaggio motivazione investimento personale nel lavoro sapendo che questa generazione tra pochi anni sarà il 30% della forza lavoro in azienda ma nello stesso tempo come possiamo far evolvere la nostra cultura organizzativa il nostro modello di lavoro per venire incontro alle aspettative di questa nuova generazione e come costruire quindi il futuro del lavoro in azienda un altro tema molto sensibile che è stato evocato dalle ricerche è il tema delle generazioni che oggi si sentono più che hanno questa percezione quantomeno di esclusione all'interno delle aziende quindi che sono le generazioni agli antipodi da un lato i baby boomers e dall'altro invece la generazione Z per motivi per motivi diversi e secondo secondo me questo questo tema ha poi a che fare con un tema molto rilevante pratico per tutte le aziende cioè come evitare un'enorme dispersione del talento quindi all'interno delle nostre organizzazioni che può significare per i più giovani il fatto di mantenerli schiacciati in posizioni poco rilevanti nell'organizzazione senza dare loro l'opportunità veramente di esprimere tutta la novità la freschezza delle loro prospettive quindi valorizzare molto di più il loro contributo all'azienda dall'altro lato quello di non perdere un enorme capitale quindi di esperienza di maturità di capacità anche di come dire svolgere un'azione di tutoraggio e di passaggio generazionale delle generazioni più senior in azienda questo per me è un altro tema chiave che è stato ben messo in luce all'interno della ricerca dall'altro lato come ancora emergono comunque in maniera intersezionale quindi all'interno dei vari punti di vista presi in considerazione dalla ricerca molto ancora degli stereotipi e anche tutti i temi di gender gap quindi dal tema quindi dell'attenzione dell'importanza soprattutto per le nuove generazioni sui temi della flessibilità piuttosto che dei congedi quindi del sostegno alla genitorialità a come dire il fatto abbiamo ben visto nell'analisi delle relazioni delle rete in cui ancora le donne nella visione più ottimistica sono portatrici sane quindi di una nuova cultura come dire più inclusiva nella visione magari un po' più pessimistica o forse realista sono ancora considerate più per questo ruolo di supporto emotivo che come centrali all'interno dell'organizzazione quindi sono tutti temi attualissimi e con cui diciamo ci dobbiamo confrontare ogni giorno grazie dottoressa salvatori allora ho visto che avete preso molti appunti lei da che cosa è stata colpita in particolar modo qui 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 vado bene allora noi abbiamo partecipato alla survey con molto interesse e fra l'altro i nostri colleghi hanno aderito numerosi e quindi è stato un momento anche un po' di verifica di quello che stiamo che abbiamo impostato il lavoro che abbiamo impostato per capire se stiamo andando sulla strada giusta soprattutto considerando quali sono state le risposte allora dico stiamo andando sulla strada giusta però è evidente che ci chiedono i colleghi ci chiedono un'accelerazione e sicuramente un maggior impegno una forza maggiore nel trasformare il contesto dove i colleghi svolgono il loro lavoro quotidiano fra l'altro nel settore dove lavoro nel settore bancario abbiamo anche una caratteristica che è stata una forte accelerazione nella tecnologia e nel cambio generazionale perché negli ultimi anni con il fondo di solidarietà il fondo che finanziato dalle banche permette di di accelerare l'uscita delle persone più più agé quindi dei baby boomers è evidente che negli ultimi anni abbiamo avuto proprio non un'uscita naturale ma un'uscita accelerata in questo quanto ha contribuito la tecnologia all'innovazione tecnologica? questo certo ma abbiamo avuto un'uscita di competenze e quindi poi vediamo quanto la ricerca di competenze da chi è ancora in azienda è molto forte dall'altra l'accelerazione tecnologica perché poi le quattro generazioni le abbiamo in azienda ma le abbiamo anche fra i nostri clienti e il modo di approcciarsi al servizio bancario sta cambiando tantissimo quindi abbiamo la generazione più più anziana che vuole ancora chiede il contatto con il gestore ed entra in filiale e abbiamo una generazione Z e anche millennials che ormai quasi il 50% non vogliono più il contatto fisico e lavorano solo in online quindi per esempio in Credi Agricole ci siamo dati un obiettivo quello di essere un'azienda 100% umana e 100% digitale cioè poter dare al cliente quello che cerca in tutte le situazioni e in tutte le fasce di età con cui ci troviamo a lavorare e questo fa sì che anche all'interno abbiamo la stessa dinamica quindi abbiamo dei giovani che cerchiamo con nuove competenze molto trasformative e fra l'altro il tema della domanda e l'offerta è un grande problema perché tra l'altro il mondo bancario sconta ancora una percezione di un mondo tradizionale quando invece è aperto a grandi trasformazioni e quindi forse meno attrattivo per i giovani quindi lo sforzo che noi stiamo cercando di fare come settore è proprio quello di presentarsi ai giovani e raccontare quello che siamo con la trasformazione che stiamo portando avanti anche tecnologica per portare all'interno delle nostre aziende competenze nuove legate ai dati all'analytics alla cyber security all'intelligenza artificiale e quindi sta cambiando completamente anche le caratteristiche delle persone che vivono il contesto il settore bancario è un settore che ha più donne che uomini in generale però alla base quindi anche lì ci fa come diceva come diceva Paola anche lì c'è un grande lavoro ancora da fare ci confrontavamo fra di noi la percentuale di donne manager oscilla fra il 30 e il 34 siamo lì e quindi l'obiettivo del 50% è un obiettivo che è forte e che le persone anche dalla SAVE che abbiamo appena appena visto alla fine emerge che c'è questa questa ambizione delle donne a non rimanere solamente sulla parte soft ma a incidere fortemente sul sistema quindi direi che un altro un aspetto che è interessante e su cui stiamo anche lì molto lavorando è il fatto che comunque c'è un punto di incontro di tutte delle quattro generazioni che è sui valori e quindi siamo sulla strada giusta perché su questo stiamo lavorando però probabilmente insomma non c'è ancora tanto da fare professore che appunti ha preso lei che cosa l'ha colpita di questa ricerca ma dunque mi hanno colpito veramente tante cose quindi è difficile selezionarlo ma lo farò prima di tutto grazie prima di tutto volevo dare un'impressione cioè la mia impressione generale è di un'organizzazione del lavoro che è fortemente vincolata molto ingessata e che ha difficoltà ad evolvere cioè tutto quello che noi abbiamo visto qua dalla ricerca sulle relazioni ai bias che ci sono e che sono dei veri e propri stereotipi fanno pensare ad un'organizzazione del lavoro che non sta riuscendo a intercettare due cose che a mio parere devono accadere per forza la trasformazione tecnologica e la trasformazione generazionale perché devono succedere entrambe inevitabilmente allora una cosa che per esempio mi colpisce in questa mancanza di dialogo tra quello su cui noi riflettiamo e la vera capacità delle aziende di mettere a terra l'evoluzione è il fatto che si parla per esempio tanto di introdurre all'interno dell'azienda persone giovani formate sul piano tecnico tecnologico anche le cosiddette lauree STEM poi ci giriamo e guardiamo l'organizzazione delle grandi aziende ed è un'organizzazione dove queste persone vengono messe tutte quante nello stesso posto come se fossero dei pozzi e dove poi è difficile promettere o fargli intravedere una carriera quindi anche qua poi io mi occupo anche di comunicazione c'è secondo me un grande intanto dovremmo affrontare onestamente il problema di far corrispondere quello che diciamo a quello che facciamo STEM 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 sì ma dobbiamo cambiare le organizzazioni e questa è una grandissima sfida perché io mi aspetto che una società un po' più data driven e intanto proprio la società italiana un po' più data driven e quindi delle aziende un po' più data driven non mettano le persone STEM solo e non perché ho il culto delle persone STEM tutt'altro solamente in determinate aree che sono quelle tecnologiche perché il ragazzo giovane che viene interpretato in questo modo all'interno dell'azienda si sente costretto nel senso che lui ha fatto quel tipo di percorso universitario anche magari puntando a un certo tipo di carriera che è una carriera trasversale invece il massimo che gli offriamo è di andare a fare lo specialista dello specialista dello specialista dello specialista manco fosse un medico di pronto soccorso o un chirurgo che deve fare un intervento a cuore aperto ecco quindi questo per esempio secondo me è un tema quello di cercare di provare a fare veramente quello che serve un'analisi l'analisi che è stata portata oggi è un'analisi molto approfondita che dice tante cose credo che a queste cose noi dobbiamo reagire con delle azioni nuove non con quelle che abbiamo fatto da vent'anni la seconda cosa sulla quale rifletto e che poi è figlia della prima è questa maggiore distanza da parte della generazione Z rispetto al lavoro anche qua ci poteva essere un'accezione positiva una negativa c'è un riequilibrio sul rapporto vita lavoro interessi benessere eccetera eccetera la verità è che poi noi abbiamo visto quanta precarietà diamo alla generazione Z e quanto non li ascoltiamo l'abbiamo visto nella ricerca sulle sulle reti relazionali quindi come possiamo pensare che loro diano tutta questa importanza al lavoro questo aspetto io lo trovo gravissimo cioè al di là di come uno lo vede del fatto che magari un giovane punti effettivamente anche ad avere una vita molto molto equilibrata e equilibrata dal punto di vista del sistema produttivo io lo vedo gravissimo perché quella generazione prima o poi occuperà i posti del lavoro il che vuol dire che comunque darà al lavoro un'importanza relativamente inferiore soprattutto rischia di arrivarci meno preparato tenendo conto di tutto quello che sta succedendo io mi fermo perché potrei andare avanti allora facciamo un secondo giro sulla base della ricerca lo diceva la dottoressa prima le azioni concrete la messa a terra allora per settore di competenza come come potete intervenire cosa pensate di fare e sulla base di questa ricerca come vi approccerete in futuro sì allora teniamo conto che parlo in questo caso dell'azienda in cui lavoro quindi Carrefour azienda della grande distribuzione alimentare quindi nella nostra azienda il 90% delle persone lavora all'interno dei punti vendita quindi un ambito organizzativo che diciamo di per sé non è così favorevole quindi ha come dire rispetto soprattutto alle attitudini rispetto o alle aspettative delle nuove generazioni rispetto al mondo del lavoro quindi negozi aperti sette giorni su sette orari fatti su turni qualità della vita work life balance diciamo molto più difficile da conciliare quindi sicuramente per noi il fatto di costruire un ambiente di lavoro che sia sostenibile per le persone è davvero oggi è davvero una sfida che però come dire è una sfida su cui dobbiamo assolutamente andare avanti per non essere poi in un futuro cioè di qui abbastanza breve termine trovarci veramente penalizzati anche in termini di attraction appunto di qualità delle risorse quindi noi lavoriamo lavoriamo molto su tre ambiti uno è questo ambito diciamo della flessibilità quindi per esempio nelle funzioni centrali abbiamo una policy di smart working estremamente flessibile che viene molto apprezzata ma anche all'interno dei punti vendita cerchiamo di portare chiaramente come possibile questo tipo di approccio quindi ritagliare ad esempio delle mezze giornate di smart working per fare delle attività formative piuttosto che per svolgere delle attività di pianificazione o amministrative questo per cercare comunque di creare più equilibrio lavoriamo molto su delle policy che abbiamo anche lanciato recentemente quindi di supporto alla genitorialità con congedi parentali anche diciamo in più rispetto a quello previsto della legge per i papà o per i secondi genitori quindi anche qui nell'ottica di cercare di dare anche noi un nostro contributo sul fatto di avere una retribuzione una ripartizione più equilibrata dei carichi di lavoro all'interno della famiglia per favorire o perlomeno non ostacolare le carriere femminili c'è poi un altro aspetto molto rilevante a cui come dire di cui si parlava molto bene nell'ambito della ricerca che è quello relativo all'upskilling e al reskilling che è oggi un tema per tutte le generazioni nessuno può essere lasciato indietro soprattutto rispetto alle aspettative di vita lavorativa che si sono molto allungate da qualche anno a questa parte quindi i progetti che noi portiamo avanti con maggiore forza sono proprio su questo aspetto di questo approccio di long life learning non devi smettere mai di imparare quindi 100% di accesso alla formazione per tutte le persone che lavorano in azienda noi lavoriamo su un tema di trasformazione digitale per diventare una digital retail company e due anni fa abbiamo lanciato un grande progetto di formazione digitale la digital retail academy con l'obiettivo che si concluderà quest'anno di formare il 100% dei nostri collaboratori su competenze digitali che sono adattate al loro ruolo quindi dagli addetti punti vendita ai data analyst alle persone che lavorano nell'amministrazione o nell'HR perché la trasformazione digitale è qualcosa che riguarda tutti e il tema di avere delle competenze digitali diffuse in tutta l'organizzazione come diceva la collega è un tema importantissimo che bisogna portare avanti per garantire quindi la competitività e la capacità di evoluzione quindi della nostra forza lavoro un altro tema è quello di lavorare sempre sullo stimolare il dialogo tra generazioni questo si può fare in tante maniere diverse cioè in maniera spontanea noi ad esempio promuoviamo la creazione di comunità di community spontanea all'interno delle aziende per esempio su workplace che è un po' il nostro network social network interno c'è la gen Z community in cui le persone più giovani possono anche scambiarsi come dire creare se si fare ricreare una rete di supporto noi spingiamo tantissimo il mentoring quindi il fatto che tantissimi dei nostri senior manager sono impegnati in attività di mentoring verso i più giovani ma ad esempio adesso tra poco lanceremo anche un'attività di reverse mentoring cioè 74 senior manager in azienda diventeranno dei mentee e avranno dei ragazzi e ragazze della generazione Z che saranno i loro mentori quindi su dei temi più digitali ma anche di comprensione di quali sono le aspettative quindi come dire si possono in realtà fare fare tante cose ecco su anche noi come diciamo comitato esecutivo siamo impegnati sul fatto di avere costantemente dei momenti di dialogo informale quindi facciamo delle colazioni degli aperitivi con persone con generazione persone di generazione Z o millennials quindi questo serve molto per accorciare le distanze ma anche il fatto di utilizzare noi cerchiamo di utilizzare sempre di più i nostri ragazzi più giovani ragazzi e ragazze più giovani nella partecipazione a progetti interfunzionali per dare loro quella visibilità di cui hanno bisogno e sviluppare questo questo dialogo da qui c'è come dire difficoltà la strada la strada è ancora lunga e invece il settore bancario la sfida insomma che può essere lanciata sulla base di questa ricerca qual è? un po' ce l'ha accennato anche prima però basandosi su questa ricerca che cosa si può fare in più? Allora che cosa si può fare in più? Noi pensando a Credi Agricola Italia portando la nostra esperienza fra il 2022 e il 2023 abbiamo inserito in azienda più di 1100 ragazzi proprio per l'accelerazione di cui parlavo prima e oggi abbiamo quasi il 20% della popolazione che ha meno di 35 anni quindi è evidente che quello che è emerso dalla Sarvei è qualcosa su cui noi stiamo già lavorando sulla riuscire a conciliare a far lavorare insieme queste quattro generazioni in modo da garantire l'evoluzione dell'azienda e rispettare però le persone e anche un po' la loro storia e la loro cultura l'inserimento intanto devo dire che noi abbiamo lanciato da un paio d'anni quello che chiamiamo il progetto Next Generation Bank proprio creare e lavorare per la generazione futura ma non intendendo solo i giovani ma intendendo tutti quelli che faranno parte della banca del futuro quindi dalle generazioni che oggi hanno forse in mano più il governo dell'azienda e quindi manager lavoriamo su una leadership che sia più che sia una leadership sostenibile innovativa che quei valori che oggi abbiamo visto anche rappresentati nella SAVE siano vissuti concretamente ogni giorno perché questo poi permette anche ai giovani che entrano in azienda di restare perché poi noi stiamo riscontrando come ho detto una grande difficoltà nel reclutare le nuove competenze e su questo e per fronteggiare questa difficoltà stiamo lavorando con le università dentro le università per incontrare i giovani e raccontare che cos'è il sistema bancario ma soprattutto che cos'è Credi Agricola in Italia quindi l'aspetto innovativo e l'esigenza di nuove professionalità e questo lo facciamo anche con lavori project work presentazioni di Credi Agricola fatte nelle università dai nostri ragazzi che sono sicuramente più credibili hackathon organizzati per conoscere i ragazzi quindi c'è questo problema di reclutamento ma poi c'è il trattenere questi ragazzi all'interno dell'azienda e questo lo possiamo fare solo se c'è quella relazione che tanto viene messa in evidenza nella Sarve una relazione fra le varie generazioni di accompagnamento la collega parlava di mentoring di reverse mentoring noi siamo già partiti anche con il reverse mentoring fra l'altro lo stiamo facendo utilizzando una realtà importante di Credi Agricola che sono i village una sorta di incubatori di innovazione dove le persone più senior vanno per portare le loro competenze in aiuto ai giovani start-upper ma nello stesso tempo entrare in contatto con realtà molto innovative trasformative e quindi anche loro crescere il tema dell'upskilling è fortissimo e su questo anche noi stiamo dedicando tantissime energie è un upskilling sicuramente richiesto preteso dalle generazioni più giovani anche perché le generazioni prima Manuela chiedevi vogliono un posto fisso sì lo vogliono però hanno molto coraggio e quindi cambiano le aziende con l'obiettivo di crescere nelle competenze e anche di velocizzare la loro carriera quindi quello che noi cerchiamo di fare che stiamo cercando di fare è di creare questi percorsi diversificati già all'interno della nostra azienda anche noi siamo una realtà che ha una rete commerciale e ha una direzione centrale quindi all'interno del gruppo noi possiamo offrire alle nostre persone veramente ruoli completamente diversi e quindi cerchiamo con la diversificazione interna di evitare una diversificazione che li porta all'esterno poi come anche come sta accadendo in Carrefour è evidente che l'attenzione a quei valori che quei valori del benessere dell'inclusione che i giovani stanno portando in maniera molto forte ma che ormai sono entrati nella cultura anche delle altre generazioni ci hanno portato per esempio l'anno scorso come Credi Agricola a ottenere la certificazione di parità di genere una certificazione esterna che è vero che era rivolta a verificare il nostro livello di parità di genere in azienda ma per ottenere la certificazione è stato analizzato tutto il contesto che è un contesto su cui noi stiamo lavorando per valorizzare non solo la differenza di genere ma le diversità e nelle diversità ci sono anche le diversità di generazioni e quindi anche questo lavoro fatto per preparare un contesto più accogliente per le nuove generazioni ma molto rispettoso delle generazioni che già sono in azienda credo che sia qualcosa su cui come ci dice la SAVE dobbiamo continuare a lavorare e in team invece che succede come vi state volendo quali saranno i prossimi obiettivi nel mondo del lavoro anche alla luce di questa ricerca forse qualcosa di interessante è venuto fuori che si può usare no? Ma noi dunque noi abbiamo io credo che sia che il tema valoriale sia centrale nel senso che bisogna attuare l'innovazione sociale all'interno dell'azienda il che a me personalmente fa ritenere che bisogna fare un po' meno azioni ma essere un po' più mirati sul dare un'idea chiara del fatto che l'azienda si sta e si vuole trasformare sotto quel piano valoriale un piano valoriale che per noi è centrale è quello dell'equità di genere perché abbiamo una struttura della popolazione che è basata su una certa anzianità nel senso che non abbiamo tantissimi giovani all'interno dell'azienda il grande gap è lì è sulla differenza nella leadership tra uomini e donne da anni abbiamo avviato una serie di attività per modificare questa situazione lo stiamo facendo con grande caparbia nel senso che noi abbiamo introdotto i target sul gender gap nel piano industriale quindi ci siamo dati degli obiettivi di medio e di lungo periodo su questo è difficilissimo raggiungerli nel senso che ci sono tanti vincoli soprattutto in un'azienda nella quale non aumentano le posizioni non c'è un grande reshuffing generazionale nelle aziende consolidate dove si tende a diminuire le posizioni diventa ancora più complicato ottenere dei risultati sotto questo profilo però ci stiamo lavorando prendendo la situazione a martellate perché in alcuni casi bisogna fare così e diciamo che ormai sono un po' di anni che andiamo avanti su un miglioramento del 2% all'anno dopodiché abbiamo azzerato il pay gap a livello dirigenziale questo secondo me è un ottimo risultato però confesso anche che in tutte le analisi che abbiamo fatto con il consiglio d'amministrazione in questi due anni ci hanno portato a consolidare sulla base proprio della ricerca interna all'azienda l'idea che il pay gap in realtà è una conseguenza dei blocchi di carriera quindi bisogna lavorare sulla carriera anzi alcune volte è più facile perché matematicamente te lo fai tornare il risultato economico molto più difficile la gira invece sull'azzeramento dei gap di leadership molto ma molto più difficile si trovano molte più resistenze resistenze da parte di tutti quanti interne ed esterne anche da parte delle donne anche da parte delle donne che non si rendono conto che oltre al soffitto di cristallo c'è quello che in una ricerca mi pare che McKinsey ha chiamato il gradino spezzato il gradino spezzato è quello che incontrano le donne all'inizio della loro carriera cioè dallo studio di McKinsey è il nono anno consecutivo che nella società americana e canadese quindi stiamo parlando di società teoricamente che noi dovremmo prendere anche un po' a riferimento su 100 uomini che fanno carriera le donne che fanno carriera sono 80 al primo step cioè diventano manager al primo step allora soprattutto in aziende dove ripeto l'età media non è bassissima tu ti accorgi che le donne che il carico familiare che hanno le donne come dire si diluisce su tutto il loro percorso di carriera perché all'inizio della carriera fanno i figli noi abbiamo tendiamo a fare i figli tardi in Italia quindi diciamo che stiamo parlando di un'età tra i 25 e i 30 anni e in quel momento quello è un momento centrale nella vita se uno guarda oggi non c'era questa analisi ma come si sviluppa la carriera di un uomo se uno guarda come si sviluppa la carriera di un uomo quell'età è centrale nella partenza nello spin dopodiché passano quei 5-6 anni di cura nei confronti dei figli e cominciano i problemi con i genitori questo ha un'incidenza nella vita lavorativa io non voglio parlare solamente di carriera non parlo solo della carriera quella verticale io parlo proprio della soddisfazione che può avere una persona all'interno dell'azienda di fare un percorso che può essere orizzontale verticale ma che comunque gli dia un ritorno sotto questo profilo e tutti questi ostacoli incidono sia sulla carriera orizzontale che su quella verticale allora noi stiamo lavorando su questo l'ultimo step cioè oltre a darci oltre a prendere le cose ammartellate all'interno dell'azienda abbiamo deciso quest'anno di puntare su un piano di comunicazione anche verso l'esterno che corrisponde un po' a quello alle martellate che stiamo dando all'interno e cioè non abbiamo voluto fare una comunicazione istituzionale centrata sul gender gap dove non abbiamo messo né il rosa né fiori e campi di grano né niente di tutto questo abbiamo messo in mostra tutti i bias che ci sono e tutti gli ostacoli che le donne incontrano abbiamo chiesto a un grande regista che è tornatore di interpretare lui il nostro brief secondo me lo ha fatto in maniera molto molto forte con non so se voi l'avete visto questo spot con il labirinto con questa donna con io ne sono molto contenta perché credo che questo sia un momento in cui bisogna parlare di gender gap guardando la realtà poi ognuno si rimbocca le maniche e decide come affrontarlo ma soprattutto bisogna guardare i dati perché questi dati come ci insegna la Goldwyn che ha vinto il premio Nobel purtroppo non cambiano da tantissimo tempo quindi non è la piccola misurazione che il nostro 2% all'anno che può fare la differenza la differenza lo può fare veramente se cominciamo a interpretare i ruoli in maniera un po' più libera e con questa immagine delle martellate io vorrei chiamare Paola Trotta Head of Corporate Communication e Public Affair di Valore D per fare un po' il punto conclusivo di questa mattinata ecco grazie proprio una introduzione significativa allora io mi avvicino alla conclusione velocemente perché siamo andati un po' lunghi intanto voglio rinnovare i ringraziamenti al Presidente Moulet non solo per aver promosso questa iniziativa ma per averci ospitato in questo luogo incredibile un luogo di sapienza un ringraziamento anche a voi relatori che ci avete offerto tantissimi spunti di riflessione io mi porto con me alcune parole relazioni per primo skilling competenze nuove competenze prenderle a martellate ora userò anche questo termine valori cambiamento modelli di leadership e sfide sfide una parola che mi è piaciuta moltissimo ringrazio poi le 60 aziende le oltre 60 aziende che hanno partecipato quelle che ci hanno consentito di raggiungere questo numero incredibile 18.000 casi io che vengo dal largo consumo ricordo pochissime ricerche che abbiano questa ampiezza di caso e quindi questo è grazie a voi alla vostra generosità al tempo che ci avete dedicato per poter fare questa ricerca voglio ringraziare Manuela Moreno che ci ha accompagnato in questo percorso e coloro che ci ascoltano dallo streaming noi sappiamo che questa giornata è l'inizio di una riflessione di un grandissimo percorso che dobbiamo fare perché sappiamo anche che questo tema quello demografico è centrale centrale nelle aziende centrale nella società è una cosa che dobbiamo guardare con tantissima attenzione e sappiamo anche che quindi nel percorso siamo solo all'inizio che ci dovremo impegnare la parola altra parola è impegno che ho ascoltato molto frequentemente in questi incontri e anche di una un'azione di sistema tra pubblico e privato ed è necessaria io sono certa che come associazione come abbiamo sempre fatto noi siamo un'associazione che è cresciuta negli anni siamo partiti da 12 donne visionarie e siamo oltre 355 aziende sapremo contribuire a questo tema ancora con la nostra intelligenza collettiva mettendo insieme best practices knowledge e porteremo sicuramente altre proposte che condivideremo insieme grazie a tutti grazie dell'ascolto e buona giornata grazie a tutti anche di avermi dato la possibilità di ascoltarvi spunti molto interessanti grazie davvero grazie a chi ci segue con lo streaming grazie grazie a tutti